ciao ragazzi bentornati a una nuova puntata di ride with frank io sono francesco oggi siamo in direzione telese provincia di benevento dove raggiungerò luigi gialluca e altre persone e faremo un bel giro di capodanno oggi è il 31 dicembre questo viale alberato è veramente molto molto bello 31 dicembre sono le 9 e 19 sono in un leggero ritardo purtroppo mi hanno fermato perché praticamente ho montato il portatarga corto alla tenere 700 e nonostante sia corto sono riuscito a rompere il rifrangente rosso e un pezzo del portatarga evidentemente la ruota è salita troppo sopra e mi ha colpito la targa e quindi mi hanno fermato ho perso un bel po di tempo però dovrei riuscirlo a recuperare strada facendo oggi la temperatura stranamente è veramente ottima sono col completo da enduro e non ho per niente freddo stranamente vedete essere il 31 dicembre perché fino a pochi giorni fa qui c'erano temperature molto ricide molto vicine allo zero ha nevicato chi mi segue lui sa che me lo sa e niente adesso siamo in strada ci vediamo direttamente all'incontro coi ragazzi ok siamo arrivati adesso dobbiamo trovare i ragazzi vediamo un po che sono già arrivati non credo adesso vediamo un po che sono il primo ad essere arrivato che strano vederla così pulita ok dopo un misunderstanding ci siamo capiti mi stanno aspettando praticamente a due pazzi dove ero però io eccoli eh buongiorno sono dieci minuti che sto qua sotto al bar buongiorno buongiorno sono dieci minuti che sto qua sotto ok si parte finalmente siamo riusciti dopo un po prendere uno sterro misto cemento adesso inizia ad essere più divertente questa è la cosiddetta strada di merda wow si scivola c'era proprio uno strato fino fino di di fango buongiorno sono buongiorno sono buongiorno sono buongiorno sono avancati buongiorno con il nostro chiuso ok ragazzi siamo usciti la cattoro ok 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 e si riesce questo asfalto figata, figata allora, ora siamo all'interno di un bellissimo castagneto ah, il primo tratto è stato bello simpatico molto fangoso, molto sporco mi sono divertito molto adesso abbiamo fatto un tratto di asfalto ma ve l'ho abbonato sono molto buono su queste cose qua perché voi mi dite che faccio i video troppo lunghi allora, adesso dovremmo ribeccare lo sterrato e già, e già, e già allora, c'è la fantastica segnalazione attenti a caccia al cinghiale speriamo di non fare la fine del cinghiale grazie Danny ah, c***o queste zone ultra simpa ok sei entrato qui? uno, due, tre eh, ma ha preso proprio pam è caduto Gianluca no, no, no non si è fatto niente no, 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 non si è fatto niente uh, iniziamo subito bene ok ok ah 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 Ragazzi Vediamo il fango Il fango abbiamo trovato Yes Allora abbiamo questo salitino C'è quella curvetta Salgo Wow Non si poteva di no a questa C***o che bella Si riparte Uh La traccia nozze è questa Guarda ragazzi Che giornata Che giornata Meravigliosa Yes Bello questo tratto Bellissimo Wow Wow Cristo santo Mi fai nero No lo so Eh che io mi do nero No 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 3 Vai Crystal ball Crystal ball No vabbè ma quella di Alessandro è fantastica Oh Qua sembra che c'hanno i quattro fari guarda sembra che si sono fatti Questa è stata La strada è una strada è stata Grazie. Arrivato solo a tutto. Vai Scalzi! Ragazzi che salita tosta, ho avuto paura che non l'avevo registrata, invece per fortuna. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 No, no, gamba. Non ho toccato manco il freno, sono finito per terra. Vabbè, alziamo sta cosa, va? Ok, siamo riusciti a ripartire. Che caduta, ho pensato di essermi rotto qualcosa perché ho sentito un dolore all'anca, però per fortuna ho fatto un filo di stretching e sono riuscito a rimettermi in sella. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' una caduta proprio da fessi, cioè stavo su un falso piano, non ho toccato la fessi. Fino a faremo la fessi, ma la fessi, la compagnia è stata veramente ottima, ci siamo divertiti come i pazzi. Ora si torna a casa, quindi la puntata è giunta al termine. Come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito ad iscrivervi al mio canale, a lasciare un like e a commentare. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa puntata. Vi invito ad iscrivervi anche ai miei social. Ci vediamo alla prossima. Io sono Francesco e voi siete su Ride with Frank. Yo!